Si indaga per mettere insieme le diverse tessere di un puzzle, dalle testimonianze raccolte sino a ieri all'analisi delle telecamere di videosorveglianza della zona, quelle dei negozi ospitati sotto i portici di Piazzale Ungheria. Gli investigatori cercano ancora di capire cos'è accaduto nella notte tra domenica e lunedì. Aldo, 56 anni, era un pittore di origini francesi, aveva girato l'Italia, era stato in Puglia, poi nel Lazio e nel nord Italia. Palermo restava soprattutto tra ottobre e marzo per trascorrere in un clima mite l'inverno, poi con l'arrivo della primavera si portava in Germania e in Francia. Accanto a lui il suo inseparabile gatto Elios, che ha già trovato ospitalità dopo una gara per accudirlo. Per la morte di Aldo la pista investigativa resta quella dell'omicidio. L'ipotesi di un incidente, di una possibile caduta è sfumata già nella giornata di ieri, considerato anche che l'uomo non beveva e non faceva uso di droghe. La pista che porta l'omicidio è inoltre sostenuta da parecchi elementi. Una profonda ferita tra lo zigomo sinistro e la mandibola, compatibile con un colpo di un oggetto contundente, e poi ancora il giacio fuori posto, il portafoglio e il telefonino non ancora trovati. Ieri sera, lì dove Aldo dormiva, si sono ritrovati in tanti cittadini rappresentanti di associazioni e delle istituzioni, per ricordare che il valore dell'accoglienza non può fuscarsi davanti a episodi come questo. In molti hanno ricordato come Aldo fosse una figura discreta e gentile, benvoluta da tutti, residenti e commercianti di quella zona.